Buonasera a tutti, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il nostro TGN che apriamo con il day after dell'inchiesta di Fanpage, ripresa poi anche da Piazza Pulita sulla Sette, su Fratelli d'Italia, su ruolo di Carlo Fidanza e non solo, è su quello che è stato mostrato rispetto a fondi neri per la campagna elettorale e a incontri particolarmente rischiosi ed azzardati con determinate frange di ultradestra. Il tutto ovviamente ha fatto scatenare le repliche di Fratelli d'Italia, non tanto tempo fa ha parlato anche ai cronisti Giorgia Meloni, però partiamo dalle reazioni immediate della prima mattina con soprattutto Carlo Fidanza che si è autosospeso da tutte le cariche e tutti i ruoli all'interno di Fratelli d'Italia. Il pezzo. Carlo Fidanza che si autosospende da ogni ruolo in Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che chiede a Fanpage di visionare le 100 ore di girato dell'inchiesta giornalistica prima di prendere decisioni, il Movimento 5 Stelle che a Bruxelles invece esige le dimissioni dello stesso fidanza da parlamentare europeo, il PD milanese che con il segretario metropolitano Silvia Roggiani attacca frontalmente Meloni e Sodali per quei legami con l'estrema destra che riportano sulla ribalta quella richiesta, sposata dal sindaco Sala, di una dichiarazione di antifascismo che il rivale Bernardo non ha mai rilasciato in maniera esplicita. Battute razziste, sessiste, fasciste, lavatrici come le definisce il barone nero Roberto Ionghi Lavarini per pulire finanziamenti in nero appunto. Il quadro è inquietante con la procura che starebbe valutando l'apertura di inchieste per apologia del fascismo e finanziamento illecito ai partiti. Il giorno dopo le rivelazioni di Fanpage, rilanciate anche dalla trasmissione di La Sette Piazza Pulita, è quello dei commenti, delle reazioni. Fidanza sostiene che all'appello manchino conversazioni avute con il giornalista che si è finto un imprenditore intenzionato a finanziare la campagna elettorale di Chiara Valcepina, di Fratelli d'Italia, nelle quali sosteneva la necessità di farlo in maniera limpida e rispettando le leggi. Enrico Letta attacca la coppia Salvini-Meloni su Twitter, in calce, ha una foto dei due. Altri esponenti del PD, da Maran a Lia Quartapelle, passando per Alessia Morani, usano anch'essi i social per sferzare Giorgia Meloni e la destra tutta. Europa Verde ha depositato un esposto in procura. La presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, rincara la dose. Non può esserci spazio nei partiti dell'arco costituzionale per chi fa il saluto romano, inneggia Hitler, insulta neri ed ebrei. Queste le prime reazioni. Giorgia Meloni, abbiamo detto, ha parlato ribadendo la richiesta di poter visionare tutte le cento ore, dicendo che quel video che è andato in onda ed è stato prima pubblicato da Fanpage di 13 minuti è un video montato da qualcuno, dai giornalisti, e quindi che non rispecchirebbe la realtà. Ha una replica accorata e con toni abbastanza duri. Intanto, per quanto riguarda Milano, invece, è arrivata anche la presa di posizione di Luca Bernardo, del candidato sindaco del centrodestra. Sono da sempre amico della comunità ebraica. Considero semplicemente oltraggioso accostare anche indirettamente il mio nome ad atteggiamenti antisemiti o giustificazionisti nei confronti delle leggi razziali. Il mio pensiero, la mia cultura, i miei comportamenti sono di segno esattamente opposto. La mia famiglia ha partecipato attivamente alla resistenza. Io personalmente ho avuto l'onore di collaborare spesso con la comunità ebraica di Milano. Diversi esponenti di questa comunità sono candidati nelle liste che mi sostengono. Le forze politiche del centrodestra milanese e nazionale sono sempre state al fianco di Israele. Molti esponenti della mia coalizione ogni anno sfilano il 25 aprile sotto le bandiere della brigata ebraica, ricevendo insulti e minacce dagli attivisti pro-palestinesi. Qualunque atteggiamento antisemita sarebbe del tutto incompatibile con me e con la mia candidatura. Cambiamo argomento, restiamo però a Milano, nel suo centro, nel suo cuore, perché oggi c'è stato il corteo di Fridays for Future, c'era anche Greta Thunberg, e quindi vediamo le immagini, ascoltiamo anche la sua voce. Ciao Milano, ciao tutti! Li saluta così con quel ciao che conquista subito, come la chiarezza dei concetti, il suo modo di stare sul palco, di sembrare vicina, proprio una di loro. È il giorno di Greta, un altro qui a Milano, stavolta in mezzo al suo popolo, ai giovani, agli studenti. Un corteo che si snoda per le vie del centro, ma a raggera si allarga, con blitz che bloccano strade, arterie della viabilità cittadina come Corso Sempione. Una protesta colorata, fatta di cartelli artigianali, di striscioni, di maschere e costumi, a volte stravaganti. Erano in 9.000, dice la Questura, per gli organizzatori invece quasi dieci volte tanti. Qualche disordine, in piazza Affari soprattutto, la polizia ha identificato una ventina di persone in tutto, ma il corteo di fatto è rimasto sul percorso, rumoroso e basta. Un mondo green che attraversa il grigio del cemento lo sfida con quella sfrontatezza che Greta interpreta bene su quel palco, mentre in migliaia la ascoltano, la applaudono e alla fine scandiscono lo slogan. Siamo inarrestabili, un altro mondo è possibile, in questo venerdì speciale che al centro vede lei, ragazza tra i ragazzi. La pagina legata al Covid l'apriamo con i dati dell'emergenza sanitaria in Lombardia, dati incoraggianti ancora, perché come vedete il tasso di positività è allo 0,7%, resta sotto l'1%, sono tre i letti che si sono liberati nelle ultime 24 ore nei reparti di terapia intensiva, otto nei reparti normali di degenza occupati da pazienti Covid che sono stati dimessi. Lo vedete, Sondrio con solo due casi nuovi, l'Ecco 3, l'Odi 4, ma anche il dato di Milano, 112 in tutta la città metropolitana e 45 nella cerchia cittadina, è un dato che sicuramente racconta di un trend che viene confermato e di una situazione che per adesso resta sotto controllo con Attilio Fontana, il governatore Lombardo, che ha annunciato già questa mattina che la Lombardia sarebbe rimasta ancora in zona bianca e che quindi c'era da sorridere. E di Covid continuiamo a parlare perché da domenica si potrà cominciare a prenotarsi per la terza dose, potranno farlo gli over 80 Lombardi, le somministrazioni cominceranno, partiranno già lunedì 4 ottobre nei 55 centri vaccinali che sono ancora aperti, ma da più avanti, da oltre metà ottobre, il 20 precisamente, ci si potrà vaccinare, potranno farlo coloro che hanno bisogno della terza dose o viene previsto che facciano la terza dose, gli over 80 in particolare, potranno farlo anche nei presidi sanitari del territorio, cioè nelle farmacie. Dosi booster agli over 80 dal lunedì 4 ottobre nei centri vaccinali e dal 20 ottobre nelle farmacie. Sono stati definiti alcuni dettagli per la terza fase della campagna vaccinale anti-Covid in Lombardia. Al momento sono chiamati a ricevere la nuova iniezione i 150.000 pazienti lombardi trapiantati e con basse difese immunitarie. Possono registrarsi sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure vengono contattati direttamente dagli ospedali che li hanno in cura. Diversa la situazione per gli anziani. Nel loro caso si parla di dosi booster che hanno l'obiettivo di potenziare la risposta del sistema immunitario e vanno programmate ad almeno sei mesi dall'ultima somministrazione. I primi over 80 a poter fissare l'appuntamento sono quindi coloro che hanno ricevuto la seconda dose a marzo. Le iniezioni cominceranno lunedì nei 55 centri vaccinali ancora aperti sul territorio lombardo. I farmaci saranno quelli di Pfizer e Moderna. I cittadini dal 3 ottobre potranno scegliere data, ora e luogo della vaccinazione sul portale usato nei mesi scorsi. Il sistema automaticamente verificherà il rispetto dell'intervallo di 180 giorni. Novità della terza fase, la discesa in campo delle farmacie. Ce ne sono 647 in fase di formazione. In questi presidi i richiami con il vaccino Moderna verranno organizzati a partire dal 18 ottobre nelle ATS della montagna di Brescia e di Pavia, dal 20 ottobre negli altri territori. I grossisti ritireranno le fiale dagli spedali civili di Brescia e dall'ospedale Sacco di Milano e le consegneranno nei punti di somministrazione. Se vorranno sfruttare questo canale, gli over 80 dovranno registrarsi direttamente in farmacia senza passare dal sito regionale. Le prenotazioni saranno aperte dall'11 ottobre. La cronaca adesso. La polizia ha sottoposto a fermo con l'accusa di ricettazione un 29enne italiano già gravato da denunce per la detenzione di armi clandestine, nonché da precedenti proprio per rapina. furto, ricettazione, minaccia in concorso, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Le indagini della squadra investigativa del commissariato Greco Turro hanno portato gli agenti in viale Fulvio Testi nell'appartamento in uso all'uomo. Dal controllo dell'abitazione è stato possibile rinvenire un totale di circa 400 grammi di preziosi in oro oltre alla somma di circa 31 mila euro in contanti, il tutto nascosto in doppi fondi all'interno di alcuni mobili. La perquisizione ha portato anche al sequestro di due orologi di ingente valore che stiamo per vedere. I successivi accertamenti dei poliziotti di Greco Turro, effettuati sui database in uso alle forze dell'ordine, hanno permesso di risalire a una rapina consumata ai danni di due donne, avvenuta solo tre giorni prima del fermo. Ed eccoli qua i due orologi di cui parlavamo. Prende corpo il progetto di rigenerazione urbana del quartiere Tragorla e Precotto nei pressi del parco di Villafinzi. Questa è una porzione del parco di Villafinzi, in particolare la casetta del custode, la casa del custode, che è oggetto di a volte occupazioni abusive e comunque degrado ed è uno dei punti più critici, diciamo così, della zona. Lì, poco più avanti, c'è tutto un quartiere di case popolari. La sua riprogettazione, spiega Palazzo Marino, che ha l'obiettivo di integrare i servizi pubblici per la casa e il più ampio sistema di welfare territoriale, di recente ha ottenuto attraverso un bando pubblico il finanziamento dal Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, insieme a quella di un altro quartiere, in zona Corvetto, tra Lo Scalo di Porta Romana e Rogoredo Santa Giulia. I due progetti gemelli, denominati San Terlembardo Villafinzi Remix e Corvetto Universal City, possono infatti contare su un totale di 28 milioni di euro, oltre 13,8 milioni di euro per ciascuno. Il Comune parteciperà con un cofinanziamento massimo in conto capitale di 9,4 milioni per l'intervento relativo al Corvetto e di 7 milioni e mezzo per quello di Gorla, vicino al parco di Villafinzi, che ancora stiamo vedendo nelle immagini. Cambiamo argomento, al Teatro Argentia di Gorgonzola, l'Arcivescovo ha inaugurato l'anno straordinario adolescenti, 250 i ragazzi presenti, a cui si sono aggiunti altri 1200 riuniti a distanza in 60 oratori della diocesi. Non sottovalutatevi mai, siete nati per essere felici, ha detto Monsignor Delpini. Anna Maria Braccini ci racconta tutto. 1200 adolescenti riuniti in 60 diversi oratori collegati da ogni parte della diocesi, più di 250 ragazzi in presenza nella grande sala della comunità Teatro Argentia di Gorgonzola per fare festa, musica, giocare, ascoltare l'Arcivescovo, dando con lui avvio all'anno straordinario adolescenti. Tanti progetti, gli appuntamenti, le iniziative pensate promosse dalla FOM, la Fondazione degli Oratori Milanesi, per questo anno veramente speciale, come lo definisce il direttore, Don Stefano Guidi, che segna dopo un biennio una vera ripartenza, si spera, e ritorna a una sorta di normalità. Che l'entusiasmo ci sia è evidente, anche un inno e un video sono stati realizzati per l'occasione, così come lo è altrettanto la scelta di far divenire protagonisti gli adolescenti, una delle categorie che più hanno sofferto e a rischio oggi, creando attorno a loro una comunità educante. E proprio in riferimento alla sua lettera e all'immaginetta che dona i ragazzi durante la serata, il vescovo Mario osserva. La gloria di Dio è l'amore che ti rende capace di amare. E poi il retro dell'immaginetta, con una preghiera che si fa a dialogo diretto con il Signore, attraverso tre richieste, le più importanti. Sapere che senso ha la vita, sapere chi è Dio, sapere chi sono io, perché sono al mondo. E così torna l'interrogativo, che nell'età adolescenziale è spesso fonte di tanti problemi. Chi sono io e cosa devo fare? Chiarissima la risposta dell'arcivescovo. Quello che hai, quel poco che hai, quello che sei, va bene per la vita. Non sottovalutarti. Il no alla violenza sulle donne corre sul filo e si combatte a colpi di ferri e uncinetto, con 5.000 coperte multicolore stese in piazzetta reale. A Milano, il 2 ottobre, cioè domani, a formare una straordinaria installazione, si raccolgono fondi per reinserire nella società le donne che hanno subito violenza. L'iniziativa nasce da un progetto di Viva Vittoria Milano, patrocinato dal Comune e sostenuto da Daria Colombo, che è la delegata del Sindaco per le pari opportunità, e dall'assessorato alla cultura. Chiunque potrà portare a casa una o più coperte versando un'offerta. Intanto, e poi l'intero ricavato, ovviamente, andrà a telefono donna e S.V.S. Donna Aiuta Donna Onlus. Nel corso della manifestazione si terrà anche un'asta, dove saranno proposte le coperte realizzate dalle mani, per così dire, più esperte. Questo non è il primo progetto di Viva Vittoria contro la violenza sulle donne. L'associazione nata a Brescia nel 2015 e guidata da Cristina Begni, Silvia Lumini e Roberta Palmieri, si prefigge di sensibilizzare l'opinione pubblica, invitando alla partecipazione, all'unione e alla condivisione. Il quadrato realizzato da ciascuno e firmato con il proprio nome è il simbolo del no alla violenza. Il filo rosso con cui vengono uniti a 4 a 4 in coperte è il simbolo dell'unione. L'appuntamento, come avete visto, è per domani, sabato 2 ottobre, in Piazzetta Reale, di fianco al Duomo. Adesso vediamo una mostra molto particolare, una mostra al femminile, anche questa, assolutamente, ed è a Trento, ce la racconta Aristide Malnati. Quando l'arte si declina al femminile, non sono molte le pittrici che hanno lasciato traccia nella storia dell'arte. Tuttavia, fra 500 e 600, le grandi corte europee furono animate da numerose figure di artisti che ritrassero sovrani e principi e mostrarono una cultura vivace e di stampo classico. Fede Galizia, ammirabile pittoressa, al castello del Buon Consiglio a Trento fino al 24 ottobre, è un tributo a una protagonista dell'arte e della cultura europea che, pur distanza a Milano, si distinse in alcune corti di spicco dell'epoca, il periodo della prima controriforma. Fede Galizia fu genio precoce in quanto iniziò a dipingere all'età di 12 anni. Grande pittrice barocca dipinse ritratti, temi religiosi e soprattutto natore morte. I suoi ritratti erano richiestissimi e omaggiarono non solo i regnanti e le loro corti, ma anche grandi uomini di chiesa e personalità gentili. La carriera di ritrattista di Fede Galizia celebrerà giuristi, medici come Ludovico Settala, ricordato anche nei primi esposi, cardinali e famose sovrane come Margherita d'Austria e Isabella d'Asurgo. I dipinti di Fede Galizia, anche se per lo più caratterizzati dalle tinte scure controriformiste, lasciano qua e là trasparire emozione e voglia di vita. Una voce potente, quella di Fede, che riemerge dall'oscurità soffocante, era l'ultimo servizio del nostro telegiornale che si chiude qui, dopo di noi le notizie sportive con Michele Marchetti in Nova Stadio TG, poi le approfondirà in Nova Stadio Sprint alla vigilia di questo weekend, che vedrà come partita clou il derby di Torino ovviamente, ma anche la sfida tra Atalanta e Milan domenica sera, e poi la serata, quella conclusiva di campagna elettorale prima delle comunali anche a Milano, anche qui a Milano ovviamente ci occuperemo di politica con Linea d'Ombra, con Adriana Santacroce che toccherà tutti i temi di questa campagna elettorale, che sta volgendo al termine. Non cambiate canale quindi, restate su Tele Nova per questa serata. Grazie.